Francesco Totti ha iniziato la sua vacanza a Sabaudia, per la prima volta dopo 20 anni senza la moglie Ilari. I due ormai ex si sono avvicendati nella lussuosa villa prospicente Il Mare. L'ex capitano della Roma, nella mattina di mercoledì 3 agosto, è stato avvistato in spiaggia intorno alle 11.30, raggiunta passando per una stradina che la collega direttamente alla sua villa. L'ex attaccante pare abbia speso il tempo passato in spiaggia giocando e chiaccerando con gli amici, quindi si è occupato amorevolmente dei figli e protetto Isabel sia dai raggi solari che da una improvvisa pallonata giunta dalla riva. E non sono mancati i selfie con i tanti arrivati proprio per incontrarlo. Totti, come sua abitudine, ha dimostrato massima disponibilità con tutti. E si è mostrato sempre sorridente nonostante il delicato momento che sta vivendo. Si vocifera che l'ex attaccante giallorosso rimarrà nella villa di Sabaudia almeno fino a ferragosto. Ed in tanti si aspettano che possa nuovamente giocare a Padel con l'amico ed ex compagno di squadra Candela.